segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ci sono degli istituti di vigilanza che sono finiti nei migliori magistrati e che hanno alzato le paghe dei propri dipendenti questa è successo sì io credo che anche lì il ruolo della magistratura che a volte diventa legislatore è una patologia dice lei che a volte afferisce diciamo a delle mancanze per il parlamento a volte anche per un desiderio di andare un po oltre milano stanno diventando diverse queste diciamo iniziative però non posso non